A parte che il nome deve essere deciso insieme ai nostri alleati, perché si tratta di un collegio uninominale. Quindi potrebbe anche non essere un nome di Forza Italia? No, 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 noi vogliamo che sia un nome di Forza Italia, ma dobbiamo proporre ai nostri alleati, perché poi è il candidato del centrodestra, non è la lista proporzionale di Forza Italia. Quindi Forza Italia deve fare una proposta, ma siccome la finestra va fino al 29 ottobre, c'è ancora tempo per decidere chi sarà il candidato del corretto senatore di Monza. Ci sarà un'interlocuzione, mi viene in mente Marina Berlusconi, perché lei nell'ultima conferenza stampa ha fatto il nome della primogenita, ma ci sarà un'interlocuzione con la famiglia Berlusconi per decidere eventualmente il nome del candidato? L'interlocuzione con la famiglia Berlusconi c'è sempre stata, ci sarà sempre, ma Marina Berlusconi ha detto la separazione dei ruoli, quindi ciascuno ha il proprio ruolo, quindi ascolteremo, vedremo, siamo fortemente collegati anche a livello personale, quindi non mancherà occasione per sentirci, confrontarci e valutare se chiunque la famiglia Berlusconi voglia decidere di impegnarsi in politica sarà super ben accetto da parte di tutti quanti noi, ma è una decisione che aspetta a loro, che aspetta certamente a noi. Ha convocato il comitato di presidenza? Il comitato di presidenza si svolgerà questa settimana, la convocazione partirà nelle prossime ore, si svolgerà giovedì e il comitato di presidenza deciderà poi la data del prossimo Consiglio nazionale che dovrà eleggere il nuovo presidente, sempre rispettando le regole dello statuto, il nuovo presidente dovrà portare Forza Italia verso il congresso nazionale, prima il congresso nazionale, dove sono svolgiti tutti i congressi provinciali, per quanto mi riguarda... Prima dell'europaese la fa... Finisco, finisco dall'altro. Il nuovo presidente verrà eletto dal Consiglio nazionale, il presidente verrà eletto dal Consiglio nazionale dovrà condurre il partito fino al prossimo congresso. Il congresso si svolgerà nel 2024, ma è difficile adesso vedere, siamo ancora in una fase difficile perché Berlusconi è mancato da pochi giorni, quindi è tutto un percorso che noi stiamo costruendo, siamo impegnati in campagna elettorale, c'è da preparare la campagna elettorale per le europee, comunque noi rispetteremo, lo saluto, chiunque sarà eletto presidente dal Consiglio nazionale che presumibilmente si svolgerà prima della pausa estiva, anche se per noi la pausa estiva come partito non ci sarà perché siamo mobilitati tra campagna di tesseramento, siamo mobilitati per organizzare una serie di eventi nazionali, uno a Gaeta ad inizio del mese di settembre, un altro il 29 settembre e il 30 settembre.